Quindi mi state dicendo che se io non scavo entro 10 secondi esplodo Non saprei Bene, la mod funziona Cioè però devo proprio scavare tutto il blocco perché se faccio così Eh sì, ok, allora no raga, oddio sarà il video più difficile che io abbia mai fatto Vi ricordo che questa è una tragedia, ovviamente No, oddio non l'ho fatto il piccone No raga il piccone, no no, fermi Del legno, del legno dammi tutto Dammi tutto, dammi la terra Degli stick, è incredibile, è incredibile che chiulo No, oddio raga, allora non so quanto lontano arriveremo Ma ci proveremo, credo Allora stuc, 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 stuc Va bene, fatto, scava, scava, scava Sì, sium, sium, sium Ok, madò che difficoltà Devo fare gli stick, no devo fare la crafting table, no gli stick Stuc, fatta Ma no, la terra è tipo il jolly Ok, piazzata, troppo forte, troppo facile questo videogioco C'è una tensione del genere, non l'ho mai provata nella mia vita No, devi darmi il piccone, devi darmi il piccone Ok Quindi ora, volendo, possiamo andare a caccia Uh, ferro Ok, ok, mi ricordavo bene Allora, no, no, non sto scavando Perché non sto scavando Perché Uuuuuh Vi ricordo che se volete la mod In caso ve le metto tutte su Discord I link sono in descrizione Io sto per esplodere Quindi è stato un onore Ok I, se siete nuovi Perché no? Iscrivetevi Non costa nulla Che poi Perché non ho pensato a un piano Prima di iniziare questa mod E perché non sto scavando Buono Ma tipo queste Uh, contano anche le foglie Ok, raga Le foglie sono la svolta Ve lo dico Tranquillamente Ok, allora Sto cucinando il ferro Lo sto cuocendo con Uh, una mela buona Lo sto cuocendo con Il legno Perché non sto scavando Due secondi Così ci facciamo Sia il piccone Che magari la spada E il secchiello Di ferro Uh, ma conta anche i semini Ok, questo Raga Ancora meglio delle foglie E ancora di più la svolta E mi faccio Una spada Ok Mancava un secondo Ma do la tensione Però la tensione È palpabilissima Allora il mio piano è Non so se arriveremo mai A tipo Ender Dragon O robe strane Non lo so In teoria quello sarebbe L'obiettivo Ma la vedo dura Quindi per ora Il mio obiettivo è Finché non esplodo L'esplosione Denominerà La fine della serie Uh, lava Allora Scendo qua giù E ci scendo scavando Quindi in teoria Se troviamo già diamanti O robe strane Raga Io vi dico che È top Cioè nel senso Ottimo Mi servirebbero anche Delle torce in realtà Ma questo È un altro discorso Allora ho capito Il non esplodere No, 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 no Devi scavare Devi scavare alla veloce No, uno zombie Allora zombie Senti Devi farmi scavare Ok No raga Non ci vedo una minchia Allora No Che ecco alla fine No sono ritardato C'ho un cromosoma in più Ho un cromosoma in più Mayday Mayday C'è pure uno zombie E insomma Preferisco esplodere Ve lo dico Preferisco esplodere A morire dallo zombie Cioè voi non avete idea Della tensione Che emette Ho un piano No raga Ho un piano Mi faccio da bomba E continuo a esplodere Finchè non scavo E trovo cose Uh carbone Vai mina sto carbone Mina Mina Sono ufficialmente L'uomo TNT È il mio nuovo superpotere Non fate più bulletti Con l'uomo TNT Eh porcellino Eh boom Bitch Allora ho messo la creativa Perché c'è la creativa Ovviamente nelle mod Cioè vi volevo far vedere Il potere dell'uomo TNT Cioè raga È fortissimo È fucking fortissimo Ok Potrei essermi bloccato Ma con i miei poteri Uomo TNT Attivati Ok dai Allora per l'ultima volta Riproviamo normale Vediamo cosa succede Appena esplodo Il video finisce Potrebbe essere un video cortissimo Da tipo 3 minuti Molto probabilmente E niente Ci praticamente Ritroviamo Sostanzialmente Al punto di prima Con meno ferro E più preoccupazioni Allora dato che qui Prima abbiamo creato Tipo il panico Direi di tornarci Malamente Buongiorno Sono il tizio di prima Quello che vi ha fatto Esplodere la casa Sì sono proprio io Salve vorrei solo Dare un'occhiata Ai vostri prodotti Del tipo Questo ferro Me lo prendo volentieri Lì sotto c'è tipo Il vuoto cosmico Va bene Non ci voglio andare Allora stavo un po' esplorando Uh Madò Tra un'esplosione e l'altra Sono sceso nella gro Salve Pezzo di No devo minare Ok Allora senti Quello che fa le esplosioni più grandi Sono io Quindi vedi di non fare tanto il bullet Dicevamo Vedi di non fare tanto Il bullet Ho detto che ti insacco Shata Troppo facile questo No sono caduto Devo minare Devo minare Uuuu Di poco No raga non vedo niente Potrei morire Potrei Non vedo niente C'è la cosa bella è che io sto scavando Ma non perché voglio Perché devo Ed è bruttissimo Credo che sia la challenge Più Che ansia Che abbia mai fatto Vi prego smettetela Sento anche degli zombie qua sopra Cose Esplosioni E non provengono da me Purtroppo O per fortuna Dai Sono il classico grappler Che trovi in giro per il mondo pokemon Che ti fa esplosione E ti metti a piangere Perché ti shotta i pokemon Oh no Mi sta finendo anche il piccone È la fine Non può finirmi il piccone Dov'è la mia crafting table Sì? Sì? Ok Ti richiamo tra un attimo Voglio morire